La Corte dei Conti boccia il 73% delle leggi approvate dalla Regione Abruzzo. Nel documento, depositato il 16 maggio scorso, tra le motivazioni si legge svilimento dell'obbligo di copertura e artifici contabili. A dare la notizia il Movimento 5 Stelle che lancia un allarme. La Corte dei Conti boccia la Regione Abruzzo in quanto il 70% delle leggi approvate nel 2015 non hanno copertura finanziaria, non sono passati al vaglio del parere degli uffici finanziari o delle commissioni competenti. Possiamo dire promuove l'opposizione del Movimento 5 Stelle. Ad essere contestate per mancanza di copertura finanziaria ci sarebbero la ricapitalizzazione di Saga, società aeroportuale, l'acquisizione di quote di Abruzzo Engineering, società consortile per azioni della Regione Abruzzo e anche l'accensione di un mutuo da 100 milioni di euro per spese di gestione del disavanzo regionale. Questo cosa comporta? Comporta che abbiamo una Regione con un disavanzo di 650-700 milioni di euro con riaccertamenti dei residui e un debito di 3 miliardi di euro, quindi praticamente una Regione fallita, che non avendo quindi, producendo norme senza la copertura finanziaria, questo va ad incrementare ancora di più il grande debito, il grande disavanzo della Regione Abruzzo e quindi incidere sulle tasche dei contribuenti, dei cittadini della Regione Abruzzo, che saranno chiamati a ripianare quello che non c'è.